il tuo rapporto con la tecnologia è un rapporto molto circospetto non amo gli emoticons tanto per giocare su quanto abbiamo fatto in questo spettacolo qui a fiugi family festival e per il resto sono uno che la usa per quello che serve insomma essere connesso non sono proprio un maniaco i fatti vostri come dire vanno bene in televisione non vanno bene sul sul web come vedi il prossimo futuro veramente saremo sostituiti dalle macchine oppure avremo il cellulare sempre sempre acceduto davanti agli occhi c'è anche chi aveva pregonizzato che ce l'avrebbero impiantato nella pelle credo che la convergenza delle piattaforme la banda larga ce ne faranno vedere veramente delle belle ed è un futuro tutto da scrivere ma il futuro poi comincia nel nel presente grazie mille a voi